Oh mamma mia voglio il fiorefante E' la cosa più bella che io abbia mai visto Ho la zebra punk ne vogliamo parlare Ma il fiorefante La zebra con la crestona La zebra punk è geniale ma il fiorefante ha conquistato il mio cuore Il fiorefante è bellissimo No non riesco più a parlare perchè è davvero bellissimo E' velocissimo hai notato? E' super veloce Mamma mia si Forse è un po' troppo Aiuto mi hai fatto vedere i banditetti E giustamente prendi la pietra che faccio Prima o poi E ragazzi come va? Io sono Pierinichi E io sono Steph e qui si chiama Rodeo Stampid Ovvero un gioco per cellulare In cui dovremmo gestire il nostro zoo Con gli animali che catturiamo Come vedete Steph ne ha appena catturato uno Il suo primo bufalo E mi sono fatto anche una bella foto Si chiama Maria il nostro bufalo a quanto pare E gli da dei nomi E' davvero carino davvero fantastico Allora vediamo un pochettino Pierinichi ha visto leggermente il gioco Io non ho praticamente idea di che cos'è E' andata così Lui mi ha detto Perchè non registriamo un video su sto gioco? Io l'ho scaricato perchè me ne sono subito innamorata E sarei più brava di te a cavalcare gli animali Guarda sono davvero più brava Allora devi domare un animale un po' più impegnativo Ok perchè Maria non era impegnativa E' stata abbastanza impegnativa E' stata una faticaccia Però questa è ancora più impegnativa Quindi preparati mi raccomando concentrato Allora qui se vuoi una mano Sì Devi saltare da un bufalo all'altro Finchè non trovi l'altro tipo di animale Perchè se vedi dopo un po' Il nostro bufalo si stanca e ti butta di sotto Guarda No Vedi? Maria Maria devi abbandonare Ok Devi prendere la zebra Vai Steph non è un bravo domatore Faccia a terra Assolutamente no Non mi ci vedrei proprio a fare un lavoro del genere Ta La vedo La vedo in lontananza Lanciati Lanciati Prendila Ok Devi anche schivare gli ostacoli giustamente Ci siamo dimenticati di dirlo Bisogna schivare gli ostacoli Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ci sono Ci sono Vai Non ci sono E prendi di faccia la pietra Io mi immagino attendo in realtà in questa situazione Che prendi di faccia le pietre Guardami Mi stai uccidendo Guardami Ormai mi sono abituato Vai Al far west Anche se è un bestialito Ormai lo sto ad omare Steph vola e lo prende Pronto? Sì La scatola la prendi Gli altri schivali 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 Sei diventato amico della zebra Aspetta Devi scattarti il selfie Giustamente per un momento così importante Va sempre scattato un selfie Così Vai No Perché indica la tua La tua riuscita Come schia Bianca 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 Zebra bianca Sì carino carino Ok Continuiamo Dopo un animale più impegnativo L'abbiamo fatto e ci ha pagato 50 soldini Adesso andiamo finalmente Nel nostro zoo E ti fari notare subito una cosa Ok Questo zoo è una nave sospesa nel vuoto Cioè davvero bellissima L'ho trovata davvero fantastica Comunque iniziamo Allora devi prima migliorare I recinti Ok Devi costruire un abitato per il tuo animale Costruisci 30 soldini E vedete un pochettino Gli ha aggiunto il terriccio E le cose giuste Quindi adesso possiamo Aprire il nostro zoo Bellissimo Ma è super tecnologico Eh sì Eh sì Domare più animali rari Fa aumentare i guadagni del tuo zoo Quindi vedi è molto importante Riuscire a prendere gli animali più complicati Allora qua se vuoi Abbiamo Maria e Bianca Scusami eh Allora Non mi vorrei vantare Però Adesso torni giù a domare gli animali Così Eh vedi ma sono sopra la zebra Capito Invece che sopra quello Parto direttamente sulla zebra Eh lo so E quindi l'ho potenziata E posso starci due secondi in più Devi prendere l'elefante E lo so ok Ma l'ho visto in ritardo Non ce ne sono altri Salta salta Vai su un altro Tanto ne troverai più avanti Vai 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 Continua Guarda c'è anche quello Che cos'è Che cos'è questo Non so cosa sia È velocissimo Tienilo Tienilo Schrivo tutto È bellissimo Schrivo Buffalo delle foreste Eh che bello Sei proprio imbizzarrito Guarda Così Vai sì È bellissimo Sto selfie Isabella Sono tutte femmine Isabella Isabella Sono geniali i nomi che scegli Ti dico la verità Devo continuare Vai continua Sì 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 Anche questo è nuovo Schrivo Sì sì Uh vai Corro Ma quanti animali nuovi stiamo prendendo Schrivo Buffalo d'acqua Esistono i buffalo d'acqua Questo è perfetto così No era perfetto così Vabbè non mi ascolta Non ti ascolto Cristoforo Il primo maschio Cristoforo Che bello che sei Cristoforo Allora continua E basta Perché me ne fa prendere così tanti Perché hai fatto È combinato un disastro Ok Dovevi seguire le missioni del gioco Potenziare due volte Il recinto Del Di Maria Di Maria al buffalo Voglio chiamarli per nome E poi andare avanti Invece ti predo la zebra Te ne sei andato in giro Dritto per dritto Comunque Grandi successi Grandi successi Completato Li ha messi tutti insieme loro Ah beh sì Perché sono della stessa specie Che bello Maria a compagnia Con Allora Ah ci ridice i nomi Maria Isabella E Cristoforo Isabella e Cristoforo E qua abbiamo pure la foto Missione fatta Tre animali domati Quindi Grazie a me L'abbiamo fatto E adesso Ma io non ti ascolto Potenziamo l'abitato dei buffalo Che diventa ancora più bellino Ok E automaticamente abbiamo fatto L'altra missione Sì esatto Suppongo No due volte lo devi potenziare Credo Ma non ne abbiamo sciolti No scusa Guarda la missione Dove le vedi le missioni Non le vedo più Non le vedo più Ah qua Sì vedi era altre due volte Ok Quindi cento Ok ok Comunque guarda Esplora più espandi Quindi probabilmente avremmo anche altre zone Vedi la stavane sopra C'è anche già un altro Però ne siamo poveri Cavalca ha quattro buffe In una sola corsa Ci ho dato una missione Fallo Sono nato per farlo Uno Uno Ma io voglio l'elefante Due Eeeh Tre Dai che la facciamo Magari ci dà soldi E quattro Mamma mia Allora l'elefante lo ritroveremo di sicuro Dai E lo spero Vai avanti Io non l'ho preso per fare quella missione Eccolo Eccolo vai l'elefante Salta sull'elefante No Oh mamma mia quanto occorre No Ma quanto occorre Aiutami Ci hanno proprio dato un calcio enorme Vabbè 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 Così Ok Guarda Bello l'elefante Come si chiama Emilia C'è Emilia C'è Emilia C'è Emilia Ok Andiamo con l'elefante in giro un po' No Avevi fatto il tuo record di corsa Però Bello Vedi Puoi anche migliorarti 50 di bonus per aver fatto questo Continuiamo un po' a correre Perché se troviamo un'altra cassa con i soldini Ok Arriviamo a 100 E possiamo E puoi fare Hai visto? Resta in groppa un bufalo per 8 secondi Quale ti conviene farlo? Perché così almeno ti fai dei punti bonus Ci passiamo più soldi Ok E possiamo potenziare il recinto Quindi muoviti 8 Ma dai Mi ha sbagliato Beh Hai sbagliato un po' Devo un po' raddrizzare la mira Per saltare Da una zebra a un bufalo No è una cosa Normalissima di tutti i giorni 1 2 3 Ah ok ce la diamo Ah ok 2 Quindi adesso devo stare attento Mentre scalcia Oh mamma Vai cambia 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 Oh mamma Steph è il numero 1 E vola È bellissimo Sì mi sono divertendo un sacco Cioè no è troppo divertente La cosa bella È che di solito questi giochini Hanno solo la parte gestionale Esatto Esatto E invece questo giochino Ha una specie di minigioco Integrato divertentissimo Esatto Io infatti È per quello Che l'ho apprezzato subito tantissimo Perché io mi aspettavo Proprio dal titolo Che avessimo Sì Che stai facendo Vai 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 nell'acqua Ci potenziamo così In questo modo Eh vabbè Guarda Abbiamo fatto la missione Che ci chiedeva Ho saltato il gazebo Sono proprio di lusso Ormai è di lusso Anche quando piove Sono tranquillissimi loro Però scusami Io ho fatto la missione Prossima fermata Savana 2 Ok quindi dobbiamo Ma poteva darci dei soldini Eh sì Vabbè Sono rimasto male Sulla zebra che va più veloce Olè Questo è stato proprio una cosa bellissima Oh mamma È il nuovo record Ok 1.400 Ok È andata bene Non mi ha dato altre missioni Non ha dato altri obiettivini Percorri 800 metri nella savana In una sola corsa Lo voglio fare al primo tentativo Sì vai 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 Andiamo Ce la facciamo Ce la facciamo Sono fiduciosa Anche io Delle tue abilità di cowboy Sono molto fiduciosa Vai 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 Fiduciosa Ah stavo guardando i metri Cerco di tenerli d'occhio Così ti posso aggiornare Lì c'era un elefante Avrebbe fatto super comodo Eh sì Cassa Cassa che ci servono soldi Eri a metà Eri a metà Comunque sei un po' scarso Scusa te lo dico Però sei molto maleducata Sei molto bravo Capito Devi impegnarti un po' di più Sei molto maleducata Devi impegnarti un po' di più Io sinceramente Sono molto alterato di un po' di più Sono molto alterato d'umore Perché tu sei maleducata Forza Forza L'hai visto? Chi è scarso adesso? Muoviti dai Chi è che è scarso adesso? Ti aggiorno ci metri Muoviti Volo Vai bravissimo 500 Ahah Vai Quelli sono i miei prossimi 600 Sull'elefante direttamente Ce la fai Ne mancano 100 Ne mancano 100 Sono stati visti Aspetta Si espande anche la nave però Ah ma davvero Sì E c'è uno mino sotto il nostro Chi è? Salve Ah ok Oh mamma mia Voglio il fiorefante È la cosa più bella Che io abbia mai visto Ho la zebra punk Ne vogliamo parlare Ma il fiorefante La zebra con la crestona La zebra punk È geniale Ma il fiorefante Ha conquistato il mio cuore Il fiorefante è bellissimo No non riesco più a parlare Perché è davvero bellissimo Andiamo Scusate No Vai L'ho preso Oh sei bellissimo Sei uno struzzo Lo struzzo ci voleva Amico dello struzzo Lo struzzo ci voleva Eh va che carino Bellino Nome Sabrina Tutti femminucce Vai Sabrina Mi piace Ok continuiamo Allora È velocissimo Hai notato? È super veloce Mamma mia Sì Forse è un po' troppo Aiuto Ho fatto bene bandite E giustamente prendi la pietra Prima o poi Vabbè è bellissimo Lo struzzo Prima o poi avrei dovuto Centrare qualcosa Un po' di soldini Scusate Fate spazio Steph Se no non passa qua Cambia 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 Bellissimo Bravissimo Ok Ok vediamo se troviamo qualche altro nuovo animale Esatto 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 La zebra sta per cedere Vai lì 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 Bufalo Ok Ok andato Struzzo Andiamo su uno struzzo che comunque va più veloce Eh però devi fare attenzione a non schiantarti Perché quella è la cosa complicata Perché Anche se poi Stava già cedendo Probabilmente diventa più difficile Secondo me diventa più difficile Quindi Ok Ok sì E quindi devi cambiare più spesso No Vai Mamma 1200 Potrebbe essere il nuovo record Elefante Occhio Occhio che ansia Zebra Ok Ok Che record 1600 siamo 1600 Ma è il nuovo record Perché ancora non abbiamo visto la linea del record Vabbè Vai 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 Mamma mia Ma altri animali no Solo lo struzzo ci danno 2000 metri 2000 Incredibile E si schianta subito ai 2000 Perché per l'emozione ovviamente devi cascar di faccia Oh mio dio Che cos'è È uno struzzo con una chitarra Ce la devo fare Ce la devo fare Ce la devo Struzzo Glam Ma quindi quelli che erano a pagamento Li possiamo anche trovare Sono rarissimi Ma li possiamo trovare È la cosa più bella che io abbia mai visto È la cosa più bella È il più bello del fiorefante Il più bello del fiorefante Perché ha una chitarra È fantastico Rosa per di più Oh mio dio Sto per rubarti l'account così Me lo prendo io Ruggero L'unica che doveva essere donna E un uomo Ma com'è possibile No lo struzzo Glam Con la chitarra Che si chiama Ruggero Secondo me è una genialata Secondo me è una genialata Ok Possiamo continuare tramite Ruggero Andiamo Ruggero Un altro Credo Che sia un mammut Anche se i mammut non esistono Nel senso che sono estinti Sono estinti Sì che esistono Sì ma perché Perché te ne frega Puoi avere un mammut Guarda che belli i capelli che ha Questo lo chiamo belli i capelli Non si chiama Non sono capelli Sancia 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 No sancia Vai Chi mi criticava Ma ormai guardate Come schiva tutto Ormai ci hai preso la mano Bravo bravo Mille Dobbiamo arrivare a duemila Dobbiamo arrivare Due mila Mamma mia che schivato Sognatevi Continua Continua Continuiamo Guardando la pubblicità Dopo ci guardiamo la pubblicità Pazienza Ok Andiamo Ok Vai 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 Però sinceramente Non rischiamo con lo struzzo Andiamo su una zebra Sì sì Sono d'accordo Perché ormai siamo belli avanti Allora Ok Ci siamo già stati Grazie Non ci interessi Cambia 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 Ho sbagliato mira Eh sì Me ne sono accorta Siamo oltre duemila Record personale superato Bravo bravo Ti prego Vai 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 Tieni 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 Che sicuramente troviamo qualcosa di nuovo per forza Oh mamma mia è pieno di zebra Ma è pieno di zebra Ci guardiamo il video Ok ok vai Allora Pronto 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 eh Sì Che strettissimi sono questi passaggi Ma siamo pazzi Oh Aiuto Ok Ma come hai fatto Non lo so neanche io No È impossibile È impossibile Sì Sto sudando Dobbiamo aspettare 40 minuti Per farci un bel po' di soldini Dopodiché Completare altre 5 missioni Che credo che ti dia ogni tot ore Che ancora non ho ben chiaro Penso quelle bonus Penso che siano quelle Non lo so Allora Potenziale ancora un po' tutti 100 150 E 100 Non abbiamo i soldi per prendere Niente E nessuno Vabbè dovremmo aspettare di farmare Di farmare un po' di soldi E poi continuare a giocare Esattamente Comunque ci fermiamo così per questo video Fateci sapere nei commenti E anche lasciando like Eccetera 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 Se vi piacerebbe vedere qualche altro video di questo gioco Non è tanto da serie Perché alla fine No serie no È molto il minigioco Con un po' di gestione Però è molto quel minigioco Di riuscire a schivare le cose Eccetera Magari un altro episodio Per andare un pochettino avanti Altre uno o due episodi Giusto adatto Quando si ingrandisce la nave Magari un altro episodio ancora Se riusciamo a catturare qualche specie Molto particolare fuori dai video Quindi per farvela vedere Sarebbe fantastico Esattamente Quindi fatecelo sapere E vedremo se continuare a farci dei video Su questo gioco Per ragazzi Se non vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Settaci un bel like E se la prima volta che avete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi i miei episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao